Ci sono tre manifestazioni di interesse per le cooperative operaie di Trieste, un buon segnale in vista dell'udienza in tribunale di domani, udienza decisiva per bloccare la procedura di fallimento, ed è un buon segno anche per la crisi della Copca, il servizio di Gioia Meloni. Se la nostra regione sta soffrendo le crisi di cooperative operaie e di quelle carniche, me ne sono altre quattro in Piemonte, Lombardia ed Emilia ad essere saltate. E mentre l'assessore Bolzonello auspica che siano presto modificate le norme inerenti alla vigilanza, che al momento consentono solamente di valutare il perseguimento degli scopi cooperativistici e non di monitorare la gestione delle società, la regione, dopo aver chiesto a quattro membri del consiglio di amministrazione di Copca di fare un passo indietro, ora promette di allestire una task force che relazioni sulla situazione reale e collabori alla stesura di un progetto che porti al concordato. Il fine comune? Preservare l'occupazione e i quasi 3.000 soci che si vedono bloccati i 26 milioni e mezzo di euro prestati. Intanto si lavora per individuare quattro figure di manager che si affianchino ai cinque membri rimasti nel CDA e forse già in settimana si potrebbero conoscere i nomi. Certamente dovranno essere persone con forti legami con il mondo economico cooperativistico nazionale, che in questa fase si spera si ricompatti e sostenga i salvataggi. Nel bene e nel male il futuro delle due coop è strettamente legato. Se la crisi di quella triestina ha indotto i risparmiatori carnici ad andare all'incasso, mettendo in crisi di liquidità la società, così se domani il Tribunale di Trieste dovesse concedere il concordato preventivo, bloccando di fatto la procedura di fallimento, questa decisione potrebbe essere un'iniezione di fiducia anche per Copca. Intanto sul tavolo dell'amministratore giudiziario di Cooperative Operaia sono arrivate tre richieste di interesse da parte di Conad, Cooperative Nordeste e di una realtà straniera per differenti beni e settori della società. Un buon viatico per lavorare ad un piano di salvataggio.